Partito il conto alla rovescia a Prato-La Perinia per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni amministrative dell'11 giugno. C'è tempo fino alle 12 di venerdì 12 maggio e poi la campagna elettorale arriverà a range finale. Se da un lato gli scenari sono chiari c'è ancora chi resta sul fronte del dubbio. E' il caso dell'imprenditore albanese Luana Lulli che Onda Tg aveva annunciato nei mesi scorsi la sua candidatura a sindaco, ma quando mancano una mangiata di giorni alla presentazione delle liste è ancora a caccia di quote rosa. Ne mancano due, spiega i nostri microfoni, se non le troverò scenderò in campo come candidato consigliere in uno dei gruppi già formati. Questo vorrebbe dire che se l'imprenditore non riuscirà a trovare altre donne da inserire nella sua lista, i candidati sindaco restano cinque, sempre se da Roma arriverà l'ok al Movimento 5 Stelle per l'uso del simbolo. I grillini avrebbero tutto pronto, lista e candidato sindaco. Hanno sottoscritto pubblicamente la loro candidatura, gli otto uomini e le quattro donne che appoggiano Antonella Di Nino, candidato sindaco, per la lista Pratola Bellissima. I giochi sono fatti anche per Pratola Insieme, il gruppo che candida sindaco, l'ex vice sindaco e attuale consigliere di minoranza Alessandra Tomassilli. Il centro-sinistra, con il motto Futuro Comune, si schiera a compatto con l'imprenditore Gaetano Di Cioccio, la sua prima esperienza politica, come del resto c'è Sirio ed Alessandro Zazzaretta, che ha dato vita al Movimento Civico Persone Come Te. È questione di qualche ora, dopodiché tutti i nodi saranno sciolti.